numero 5 muta multifunzione a manica lunga adatta per immersioni snorkeling surf nuoto e vari altri sport acquatici realizzata in neoprene di buona qualità lo strato esterno del tessuto di nylon è elastico e morbido chiusura posteriore con cerniera spessore del materiale 5 mm la muta è leggera e aderente lavorazione senza cuciture comoda da indossare ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 muta per immersioni con design a due pezzi giacca e pantaloni per una copertura completa del corpo la cerniera frontale della muta fornisce protezione un'efficace protezione realizzata in neoprene elasticizzato ultra resistente e spesso la cerniera frontale impedisce l'infiltrazione di acqua la muta è facile da indossare e da togliere le ginocchiere rinforzate sono resistenti all'abrasione e rendono il movimento più sicuro perfetta per sport acquatici come immersioni pesca subacquea nuoto surf kayak il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 3 muta per immersioni subacquee monopezzo con cerniera posteriore facile da indossare e da disponibile in versione uomo e donna questa muta è realizzata in morbido neoprene da 5 millimetri facilità di movimento e comfort estremo grazie agli inserti super elastici in corrispondenza di avambracci polpacci e ascelle il sistema acqua stop con inserti in morbido neoprene ferma le razioni d'acqua in corrispondenza di polsi caviglie collo alta qualità e tessuto estremamente resistente grazie agli inserti anti abrasione in poliuretano su spalle e ginocchia ottimo articolo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 muta monopezzo senza cappuccio con maniche pantaloni lunghi neoprene da 3 mm perfetta per immersioni in acque calde snorkeling nuoto e per gli sport acquatici il design ottimizza l'elasticità naturale del neoprene e si combina con un rivestimento in nylon elastico la cerniera posteriore è dotata di patta acqua stop le rifiniture di caviglie e polsi sono realizzate con orlo overlock collo preformato anatomic shape per mantenere l'angolazione collo torace ottimo rapporto qualità prezzo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 muta manica lunga composta da giacca cappuccio incorporato e pantaloni a salopette la giacca i pantaloni sono realizzati neoprene bifoderato da 5 mm chiusura con cerniera dispone di rinforzi anti usura su ginocchia stinchi e spalle polsi e caviglie con sistema acqua stop colore nero blu disponibile in diverse taglie trovi il link di questo articolo in descrizione